amici di tutto nezzo sport e dei fuoricampo buon pomeriggio per questo nuovo video qui con voi davide marchiol per fare un po di punto della situazione in casa venezia per incominciare a riavvicinarci insomma ripresa del del campionato come sapete la pausa per le nazionali quindi qualche contenuto meno del solito e c'è da dire anche a livello di serie b diciamo una serie un po in meno eclatante di rumors tante dichiarazioni un po il caso regina che sta tenendo banco per quanto riguarda la cronaca della cadetteria ma per il resto di solito come c'è la pausa per la serie b non si muove non si muove granché però un po di novità interessanti per iniziare ad approcciarci alle prossime partite e anche al futuro del venezia perché c'è una news discretamente importante che riguarda il bosco dello sport insomma sono uscite quindi è giusto fare un po di punto della situazione prima di ripartire vedremo se riusciremo a fare la consueta live consueta live il giorno prima della partita con pep in base ovviamente come sempre ai suoi impegni altrimenti ci rivedremo ovviamente per il video post venezia como e settimana prossima con le live solite si riprenderà col ritmo consueto prima di cominciare come sempre il nostro il nostro il mio invito e col rischio al canale perché parliamo e diamo tantissimo spazio di discussione anche a voi su realtà molto meno seguite le mine nazionali proprio perché sono molto meno seguite le mine nazionali però ci serve il vostro supporto per far sì che possiamo continuare questo nostro sforzo anche perché è sostanzialmente auto finanziato quindi mi raccomando iscrivetevi condividete se siete scritti un like sezione commenti aperta allora detto questo per quanto riguarda il bosco dello sport il progetto che come saprete già forse ma per chi se lo fosse perso è sostanzialmente il progetto inerente la nuova sezione se vogliamo così la nuova area ecco area urbana di venezia sulla terraferma dove si dovrebbe concentrare lo sport dell'area venezia messa insomma previsto il palazzetto per la rea di 10 mila posti uno stadio per il bene per il venezia in teoria anche se il venezia fc non è coinvolto direttamente nel progetto darsi 10 mila posti quindi a norma a livello di capienza per le richieste che sono quelle della serie a più molte altre strutture piscine insomma è immerse tra l'altro nel verde come richiesto dall'unione europea nelle ultime direttive questo detto molto in soldoni per far sì che per far sì che finalmente un polo importante come quello di venezia e mestre abbiano abbiano abbia delle strutture adeguate allo sport professionistico ecco metà dei fondi dovevano arrivare dalla pnrr e quindi dall'unione europea un'unione europea che però visionato il progetto è notizia sostanzialmente di la dell'altro ieri sta mettendo adesso in dubbio che rientri nelle nei parametri che la stessa comunità che la stessa comunità internazionale a posto per erogare poi i finanziamenti del pnrr questo non vuol dire che è stato bocciato il progetto ma sicuramente l'unione europea ha posto dei dubbi che adesso il governo da quanto ho capito forse anche forse anche un discorso che ha coinvolto la storia di firenze ma su questo a metodo che su quello che succede in quel di firenze sono un po meno informato ma nel insomma quanto diramato dalla nota del comune dai giornali anche sostanzialmente l'asse è quello l'unione europea ha posto questi dubbi e adesso i comuni coinvolti e lo stato italiano dovranno presentare insomma dei chiarimenti per far sì che questi dubbi vengano sciolti che l'unione europea mandi i fondi alle pnrr perché sono fondamentali per la realizzazione di un progetto che altrimenti coperto solo da i fondi del comune non può sarebbe non sarebbe realizzabile quindi seguiamo con attenzione c'è sempre la speranza è attualmente è la principale speranza per quanto riguarda l'infrastruttura interaferma e anche finalmente che diciamo al passo con i tempi questo è un piccolo passo falso che non ci voleva ma che si temeva potesse arrivare d'altro ne abbiamo avuto anche in live ceciliato non del comune di venezia che insomma ci aveva già spiegato che non era scontatissimo che i soldi del pnrr sarebbero arrivati quindi speriamo che i chiarimenti che stato italiano e comune di venezia porteranno l'unione europea siano sufficienti per per avere il via libera per i fondi detto questo passando al campo di venezia domenica mattina alpenzo ha affrontato l'este in amichevole vittoria 4 a 1 una sgambata sostanzialmente con una doppietta di novakovic un gol tesman e andersen aveva aperto le marcature menato per l'este sgambata in cui insomma tenere un po' alta la concentrazione i ritmi in vista della ripresa del campionato non c'era un avversario particolarmente di spessore diciamo che siamo passati un po dal polo opposto nella pausa invernale si è portato il bayern leverkusen che era oltremodo forte per quelli che sono i mezzi del venezia in questa pausa in questa pausa si è portato un avversario particolarmente non probante giusto per mettere i minuti nelle gambe ritmo partita e per testare qualche primavera vanoli oltre al solito si è portato anche redan che si è fatto i suoi 20 minuti io continuo a pensare che possa essere un giocatore per età utile quantomeno per la panchina poi è chiaro che ci sono giocatori più pronti per giocare al primo minuto ma se io posso in vanoli è l'unico sinceramente appunto che mi sento di muovergli nella gestione di queste settimane che redan si potrebbe anche portare in panchina per insomma avercelo come arma in alcune partite può tornare utile secondo me perché comunque parliamo di un ragazzo che un po di avventure tra i grandi se l'è fatto non è in età da primavera in età da prima squadra questa spedizione in primavera questo questo essere stato mandato in primavera senza neanche passare dal via buh mi lascio come l'ho già detto anche in live mi lascia un po un po perplesso per quanto riguarda a beh sì sempre relativo non al campo ma ai giocatori rimasti a venezia c'è stato un evento al venezia fc store di rialto dove svobo da scelice milanese hanno incontrato i tifosi c'è stata anche l'occasione di prendere il biglietto per la partita con il combo partita fondamentale in cui essere al penso per sostenere la squadra perché ci sono tre punti in palio pesanti in ottica salvezza svobo da milanese scelice vanno incontrato con i tifosi firmato autografi e parlato anche ai nostri microfoni della stampa insomma di dichiarazioni non sono state nulla di particolarmente strano nel senso che hanno ribadito come il momento sia complicato e bisogna come bisogna uscirne con i risultati e con la che hanno sottolineato come con l'asca sia stata una battaglia dove però il venezia effettivamente concorre ha dimostrato di saper spezzare almeno momentaneamente le difficoltà speriamo che succeda eventualmente anche con il come piccola poi parentesi finale per quanto riguarda i nazionali quasi tutti non hanno fatto tutti 180 minuti positivo devo dire perché così hanno mantenuto alto alto i ritmi alti ritmi senza sovraccaricarsi poi an palo ha giocato la prima partita con la finlandia nella seconda nella vittoria contro il nord è subentrato solo per sei minuti tutto nel finale di gara carboni ha giocato la partita dell'italia under 21 abbia joronen panchina è il secondo portiere della finlandia non è stato utilizzato carboni con l'italia under 21 contro la serbia under 21 ha giocato contro l'ucraina under 21 no contro la serbia under 21 ha trovato un assist e stava anche per bissare il gol con l'ascoli devo dire è un buon momento per il difensore di proprietà del monza che ha messo un gol pesantissimo contro l'ascoli e devo dire che forse a parte la pareta con il frosinone tendenzialmente è stato il più il difensore più sicuro proprio di tutto il pacchetto di difensori anche tenendo conto di chi se ne è andato nel giro in andata quindi impatto più che positivo e sembra addirittura stare entrando sempre più in fiducia poi abbiamo avuto churstov impegnato con la bulgaria e infine ellerson che ha fatto due spezzoni di gara con l'islanda ha trovato anche un lui un assist che può dargli morale fiducia in vista delle delle prossime gare con il venezia anche se insomma nel set l'ha trovato nel 7 a 0 contro il lichtenstein e non proprio anche questo un test particolarmente probante ma un assist è sempre un assist se sono andate a referto quindi sicuramente al giocatore ex spezia avrà fatto piacere quindi detto del bosco dello sport detto della amichevo e detto dell'incontro con i tifosi detto delle nazionali io direi che per questo appuntamento riassuntivo di queste due settimane è tutto non mi piace che ringraziare per l'attenzione vi rimando al sito tutto messo sport.it dove trovate tutte le news relative al venezia fc 24 su 24 e quelle principali delle targate reier per il resto ci vediamo o in live sapete che di solito c'è quella con pepi il venerdì e poi quella itinerante con mano le avvise e con il mio video post partita post venezia come in questo caso qui sul canale di fuoricampo ricordati iscrizione like non mi resta che un saluto alla prossima ciao